ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video eccoci qua con la prima puntata dell'anno va bene buon 2024 a tutti primo gennaio e siamo qua a fare un altro videino con i vostri orologi con le vostre collezioni con voi che vi presentate e ci mostrate quello che avete scelto a volte si trovano orologi mai visti a volte stra 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 visti ma è pur sempre interessante guardare un po cosa c'è intorno no poi ognuno di voi gli orologi ce li ha sì va bene bello indossarli possederli averli guardarli studiarli ma anche per far vedere agli altri quello che si è scelto un po di soddisfazione come si suol dire non mi dà soddisfazione mostrare la collezione agli altri no far vedere un po cosa sia e cosa non si ha cosa si è scelto ora l'orologio del giorno oggi è questo bellissimo seiko skx 42 mm di diametro cassa ghiera pepsi bracciale jubilee veramente molto morbido comodo stanco per cui si stanca si stanca orologio da portare al mare da utilizzare e da divertirsi con il calibrino 7s 26 dentro proprio quello base base della seiko senza la carica manuale addirittura però è un bell'orologio bello bello diver certificato con tutti i crismi che allora come partecipare poi a questa rubrica lo sapete no avete visto in sovrappressione c'era la dicitura un bel video in orizzontale me lo mandate lo caricate sul portale poi me lo mandate e riguardiamo a proposito di guardare diamo la via perché sono qua ci si dimentica anche di guardare video dito fuocato e fuoco vai 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 ciao davide sono paolo dalla provincia di milano allora qua cosa vediamo wanted dead or alive 5000 dollari di ricompensa si è fatto anche la praticamente ancora qua vediamo anche l'amico che ci sta ci sta parlando eccolo qua è venuto al watch meeting chiaramente mi sembra no a no qua eravamo al al voi no a gorgonzola la fiera di orologico eccolo lì riconosco gli stand e ci siamo incontrati lì abbiamo fatto la foto tutti assieme di ci siamo divertiti bravo 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 non avendo una tovaglia speciale ho pensato di farmi questa bravo vabbè dai partiamo subito dalla mia collezione di orologi da quello più piccolo e quindi un zenowatch basel pilot 45 48 mm 48 movimento eta 28 24 se guarda lì che effetto che effetto ciambellone che fa dietro perché 48 mm eletta 25 mm di diametro quanto è tutto il resto è spessore ed altruode così facevano meglio a farlo chiuso si facevano meglio a farlo chiuso in questo caso no non mi puoi far vedere un oblo così giusto per far vedere l'età dentro a volte ci si perdono in queste qui squiglie le case però zenowatch basel è un bel marchietto ora c'è sito anche un orologio sono mi sbaglio una volta particolare non è non se ne parla molto perché è un pochino diciamo commerciale si costicchiano anche gli orologi non è che te li regalano bravi bravi il ciambellone il padellone è un ciambellone dietro ti viene voglia di chiuderlo con un metà fuoco vabbè cosa facciamo ho comprato all'isola d'elba nel 2001 pensate un po' grande però mi piace l'importante quello vabbè passiamo a quello nh 83 80 potente della citizen anche lui grandicello 45 millimetri 45 c'è una storia un giorno mi è caduto quando l'ho ripreso in mano c'erano gli indici delle ore 4 delle ore 8 che se ne andavano a spasso per il quadrante allora ho detto lo apro li metto a posto lo apro e non sapevo come togliere il movimento a un certo punto mi scappa l'attrezzo e sbraying e mi sono finito dentro nella nella molla del bilanciere il fanculo è venuto fuori tutto lo sbudellato e allora ho detto sai che c'è lo butto via poi ci ho ripensato lasciato nel cassetto un giorno sull'espresso ho trovato il bilanciere nuovo e me lo sono comprato l'ho aperto gli ho messo il bilanciere nuovo ho tolto movimento ho rincollato gli indici cazzo funziona è un bijou funziona benissimo tiene il tempo fa il suo bravo bello bravo 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 e va bene passiamo ad un altro però insomma c'è da dire che ha avuto anche un minimo di di savoir faire cioè cambiare il bilanciere io non lo farei io non sarei in grado cioè non lo farei di cambiare da solo il bilanciere va bene che si tratta di togliere e mettere perché bilanciere con la spirale dentro ti arriva in teoria già bilanciato anche se da aliexpress non è che c'è da fidarsi chissà cosa si compra non so comunque hai fatto questa mossa qua va bene hai rincollato gli indici e va bene cioè immagini un po' una crocchione però funziona va bene io sinceramente dalla disperazione avrei preso l'avrei portato da un orologiaio fammi il lavoro fatto bene quello che c'è c'è volevo dire che la differenza magari di qualità tra un orologio tra un assemblaggio e l'altro no anche differenza di prezzo a volte si vede dal fatto che un orologio ti cade per terra prende un urto e gli si staccano un paio di indici no altri orologi prendono un urto e non gli succede proprio niente capito magari anche lì il controllo di qualità oppure l'assemblaggio del quadrante non sono non stanno attenti magari ai minimi dettagli lo stesso tipo di assemblaggio no alcuni se alcuni non sono venuti via e due sono venuti via vuol dire che erano più deboli quindi non c'è stata la stessa cura nel applicare gli indici no vabbè comunque anche questo è un segnale no uno dice sono uguali gli orologi poi quando succede qualcosa non sono tutti uguali no promasterone cazzo metta fuoco qua ma ok promasterone ho messo un cinturino un po più molle molle la curiosità di questo promaster che ha un movimento 8204 della miota e sul quadrante c'è ancora stampato 8203 ma figura sì ma è in basso ma c'è pieno di orologi così con una dicitura e con un calibro dentro figurati se stanno ti ripeto a questi livelli di assemblaggio di cura del dettaglio no industriale in serie i quadranti con il numerino sopra sono finiti cosa facciamo dobbiamo ordinare gli altri questi quali buttiamo via ma cosa butti via metti il quadrante con il numero vecchio e infilaci quel calibro nuovo no cioè figurati se stiamo a questi livelli a pensare a questi dettagli no come all'altro citizen sono caduti gli indici non voglio dire che i citizen fanno schifo per lavoro dice sono ottimi orologi però per il costo a cui li paghiamo 200 euro quello che è e dobbiamo non dobbiamo aspettarci che sia tutto alla perfezione no che siano curatissimi sono solidi solidi sono di via indice a quell'altro vabbè sono quasi solidi belli a vedersi funzionali ma non aspettiamoci che la dicitura sul quadrante deve essere uguale al calibro che c'è dietro si buona qui sei vabbè vabbè però c'è il fermo macchina meno male bello orologio c'è fa il suo fa il suo si ma ora mi devo guardare tutto il video col piero lì davanti ma se non si poteva levare sta foto qua il suo ole timex q ah a quarzo mette fuoco è un quarzo timex q riedizione del modello da IE 1970 a batteria eh oh però mi piaceva un casino bello fine mi piaceva si non parlare troppo va via vabbè un trucco per mettere a fuoco la camera di solito quando c'è l'autofocus tende a mettere a fuoco la parte che è più vicina alla all'obiettivo quindi se l'orologio è la e ci sono le dita che sono più vicine all'obiettivo mette a fuoco le dita quindi la cosa migliore è prendere l'orologio e fargli vedere solo la testa dell'orologio in qualche modo passiamo al secondo seico seico 5 sport automatico no non è sport seico 5 vabbè dai non parlare troppo automatico molto bello ecco al limite limitate a dire molto bello la particolarità questa referenza di avere un quadrante che si rifà a un field watch della seconda guerra mondiale si l'ho recensito anche ma so fatica a trovarlo comunque è molto bellino certo l'ho recensito si va bene bracciale serpentassonali ma va bene lo stesso va bene ed ecco il mio ecco noi traverau che bello 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 ci vedo un cazzo molto bello molto bello bello se so dire dolomiti sul fondello un sellita sv200 labore qua davanti blu degradé paraponzi ponzi pe bellissimo e vabbè sul bracciale dai dispersivo sei un po' dispersivo cos'è in ultimo l'orologio che nel 1992 ho comprato da regalare una persona a me che era oh bravo oris con movimento oris 73 17 come con movimento oris quella persona quando tornò dai suoi viaggi interplanetari tornò accompagnata quindi io sono rimasto con l'orologio eh ma meglio così l'orologio resta molto bellino e adesso un cinturino così dai va bene però il calibro non è di manufattura abbiamo scherzato eh tanti auguri oggi è la vigilia di Natale e quindi ho detto vabbè voglio fargli un regalo gli faccio il video dei miei quattro stracci bravo comunque buon Natale ti saluto buon Natale cazzo ciao 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 il massimo proprio del del brio è proprio veramente qua si vola cazzo cercate di essere un pochino più più no un pochino più non lo so nemmeno dire io come ma un pochino più coinvolgenti eh cioè quando parlate degli orologi sennò tutte queste pause queste mezze parole molto molto bello e basta cioè ci lasciano un po' il tempo che trovano comunque dai gli orologi si salvicchiano belli simpatici questo oris qua ha fatto il nome del calibro dentro che sicuramente è codice interno dedicato a un calibro di fornitura non è di manifattura comunque va bene non si è capito il viaggio interplanetario ma contento te contenti tutti dai grazie per le foto e per averci reso partecipi della tua situazione orologiera prossimo video ciao david come stai buon dia ciao ciao che ora sarà veras il video o lo veremo juntos è un marcello marcello la spagna spagna grande per mostrarti mi colezione di relojes Seiko che a continuazione ti passo a mostrare non ho molti dettagli di esso però te lo mostro ugual che è lo che parecce Seiko 5 Seiko 5 sports bello questo molto bene è la prima volta che vedo questo Seiko 5 con la doppia ghiera anche perché solitamente io pensavo cioè i Seiko 5 economici linea base una specie di complicazione di questo tipo no una doppia corona con una ghiera interna figurati se e invece è interessante orologio per Scalador ha detto Scalador bello bello cos'è classico il classico calibro ma sono dell'anno 90 sta bastante bene 7s36 un inquidato funzionando molto bello in spagnolo molto bello molto bello molto bello molto bello un Seiko Krono 6139 sì si vede si vede amico spagnolo ecco lì questo è del anno 71 71 bello anche in molto buon stato buono stato sì simpatico parla 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 cosa è questo? un bullhead si vede una minchia del anni 72 del anni che io nacì con il bull bullhead la corona non è la sua lleva una ma grande però non la ha podito conseguire va bene guardala quanti orologi che c'è cos'è? 6 coca come? 6138 questo è tra l'anno 74 74 rovinatello bello c'è il dattario eccolo lì c'è il dattario come questo SKX infatti anche io anche me oggi mi segna il numero romano vedete il 4 al numero romano sta a indicare che è il quarto giorno della settimana giovedì esattamente come il mio dattario qua il disco data sarà lo stesso è bello dai cronografino ti piacciono i cronografi della secchissima ma non parlare troppo dai siamo rapida sì no adesso per altri 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 un psycho helmet tutti ti hai cronografi 6139 del 1970 quanto ha chai uso che guarda lì la casa lente original brazzaletto brazzaletto grazie ampoli da ritocada o nada por el estilo estano originales originali sono toccato tutti 6139 6138 un jumbo non è suo bracciale è che tiene il calendario in italiano ah sì non è il lunes però è in italiano e in inglese e tiene il fondo il quadrante di colore petrolio petrolio quel blu ballo simpatico dai amico spagnolo è suo il cinturino il bracciale è suo c'è scritto secco va bene dai simpatico giallo un po' secco un po' scritto di poi un altro cronografo c'è un paio specie non fiammelo 71 tambien 71 siete che el ticchettivo bello anche su quel graffiatello e vabbè sono usati vintegno molto bello tac ecco la scritta qua è centrata secco quello di prima era storta come mai come mai lo voglio rivedere voglio rivedere la scritta di prima eccolo qua a vedi che è storta secco a sinistra sarà fatta apposta sì no bo la scritta secco va bene andiamo avanti poi che altro mi credo che do un gelmett blanco del metro un fiamma tutti cronografi tutti gli anni 70 71 72 la prima edizione sono viejos simpatico tutti uguali sono praticamente cioè che ultimi operando che noi abbiamo fatto una cosa di città perché la città è l'occhio la città è l'occhio al giorno della città è l'occhio del 2021 che tiene un nome per questo momento non mi ricordo quale è mancata sei comandata ok strano mamma mia bracciale come stante un quadrante di strutture verticale molto bello molto bello tengo molto seco, però vi mostrò alcuni, questo è tutto viejo, del anni 70 faccio vedere dietro strano è in abbastanza buono stato tutto dorato ma che spettacolo abbastanza buono buono, buono, buono buono, buono buono e questo è più o meno lo che è Saiko poi ho questo reloce American Watch Company americano che era di coltello io lo adatté le puse queste asas un acrochion e lo hice di pulsera mi sa che in spagnolo si dice acrochion è un reloj di bolsillo a ver con una sola mano si lo puedo abrir è un mariage praticamente era un orologio da tasca adattato alla bella e meglio come orologio da polso diciamo così che in spagnolo si dice acrochion mi capito acrochion acrochion un molto antico molto antico che 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 mi 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 che si 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 Cosa mi fai vedere? Ahi sta tapata, dove sta avalata. La corona parola di cuerda. Di cuerda. E poi ho fatto un'altra riforma di questi. Non so dove l'ho posto. Faccio finta di capire. Que vendria a fare questo? Ah, anche questo qua è un maggiore. Tambien lo hice io. Un Roscoff. Era da bolsillo. Roscoff. C'è l'escapamento cavigliera. Asas. Lo dijeto più originale possibile. E insomma, dai. Il gusto dell'orrido. Non è che sia... Fa piacere, però... Va a ver. Simpatico. E questo sia tutto. Spero che ti gusti, che ti abbia piaciuto. E non voglio robare più tempo per altri. Ti mando un abbraccio gigante. E ti vedo sempre. Mi divierto molto con tu... Grazie. Con tu canale. Un abbraccio. Saluto. 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 De Spagna. Saluto, caro saluto. De Spagna. Insomma. Un amico collezionista di Seiko. Beh... Però... Seiko. Tutti i Seiko degli anni settanta. Tutti quasi simili tra loro. C'è una marea di cronografi. Seiko 138. Seiko 139. Bullet. Fatti così. Fatti cosà. Seiko 5. Bravo. Anche specializzarsi così in una... In un marchio. La collezione di un marchio. Poi anche di un periodo specifico. Cavolo. Vai proprio a prendere la nicchia della nicchia. Comunque va bene. Alla fine quei simpatici mariage degli orologi della tasca. Accrocchiati con i cinturini per mettere il polso. Contento te. Contenti tutti. Non è che mi facciano impazzire. Comunque si vede che in Spagna va così. Gli garbino questi orologi qua. Comunque complimenti. Grazie per il video amico spagnolo. Alla prossima. Ciao Davide. Ciao a tutti i amici del canale. Volevo ringraziarti Davide per lo spazio che ci dedichi ai nostri video. E farti più sinceri complimenti per il mio canale. Grazie. Io sono Andrea. Vengo da Reggio Emilia. Iniziamo con la mia modesta collezione di oro. Reggio Emilia. Bravo. Partiamo da questo simpatico si può dire Bailer Betta. Mamma mia. Mi è stato regalato per la mia cresima. Ah beh. Una batteria. Modello sintesi. Fondo di magazzino. Mamma mia. Acciaio e oro. Non so che non apprezzi tanto i placati ma trovo questo orologio molto elegante da indossare in molte occasioni. Non ho capito fondo di magazzino. Te l'hanno regalato per la cresima come fondo di magazzino. Cioè Spilorci. Te l'hanno anche detto. Cioè no no. Questo qua l'ho trovato come fondo di magazzino. Quindi l'ho pagato un po' di meno. Tieni il regalo della cresima. Ma non si capisce. Fondo di magazzino. Sono davanti. Sempre un orologio. Quarzon. Batteria. Regalato invece per la comunione da mio zio. Questo fossil. Fossil a cui si è anche staccato. Ma guarda lì. Un altro. Nel quadrante. Dovrò farlo eliminare. Farlo lì. Per la mia abilità 100 metri all'acqua. Niente di che. Niente di particolare. Punto 1. Quarzona. Batteria. Cioè. Anche questo qua. Si è staccata. La lancetta. Cioè. Sono queste le cose che vanno anche. Guardate negli orologi. Quando parlavo di quel mio amico. Che c'ha. Che aveva quel. Lock Woman. No. E' una marca. Lock Woman. Nel cassetto. E l'ha lasciato. Gli avevano regalato. L'ha lasciato nel cassetto. Poi dopo un po' di anni. E' andato a tirarlo fuori. Si erano staccati gli indici. Cioè da soli. Da soli. Cosa viene? Un terremoto nel cassetto del mobile. Per staccare gli indici da soli. Proprio. Con la temperatura. Passare del tempo. Si sono staccati gli indici. Sono queste le cose che ti lasciano perplesso. Ripeto. Lì per lì sembrano tutti uguali. Gli orologi. Tutti fatti bene. Lucicosi. Belli. Poi dopo la qualità. Si vede anche nel tempo. E. Passiamo a un pezzo. Nonostante sia il quarto. Un po' più serio. E' un Lorenz. Questo tutto d'oro. Minchia. E' 18 carati. Cassa in oro. Fondelli in oro. Come puoi vedere. E. Questo è di mio padre. Però me l'ha regalato. Non mettendolo più. Me l'ha lasciato a me. Buono buono. Un modello che mi piace molto. Si si si. Poi l'oro. Mamma mia. Passiamo a un meccanico. Ed è questo Longin. Longin. Come potete vedere. Quadrante bello vissuto. Mamma mia. Mostra i suoi anni. Però si difende ancora bene. Ed è appena uscito da una revisione. Ed è sicuramente un pezzo che indosso volentieri. Ma la corona? Proprio per gli anni che ha. Funziona e marcia ancora alla grande. La corona non è dello stesso color acciaio della cassa. E poi tra l'altro a me questa cassa qua così sui 30 L non l'ho mai vista. su questi quadri. Ma non lo so. Ma ci sta. Ci sta però. Le casse di 30 L di solito di quel periodo lì sono tutte con le anse piccoline. Non così. Le anse belle presenti. Tondeggianti. Vabbò. Delle escrescenze alla cassa di solito erano. E lo stesso la corona non mi convince al cento per cento. Le sfere Dauphin su un 30 L. Si ci sta tutto. Ci sta tutto. Longina sempre. Poco da dire. Poco da dire. Sempre parlando di automatici meccanici. Ho questo Citizen. Un altro Citizen. Un Citizen automatico. Occhio agli indici. Comprato in un centro commerciale. L'ho trovato molto bello esteticamente. Molto carino. Ma si. Adesso vi faccio vedere. Si con una mano eh. Siete dei fenomeni. Movimento a vista. Eccolo qua. 70 all'acqua a cento metri. Effetto di Citizen trovo che a volte i modelli non abbiano appunto un nome ben identificativo. Per riconoscerli. Eh. Però. Forse è una scelta appunto che hanno. Così come anche Seiko. Eh. Hanno adottato. Questo è. Movimento. Come si può vedere. Ecco. Lo chiamavano Citizen. C'ha parlo con K. Eh. Un gran classico. Famoso Seiko Gent. Ho chiamato anche Explorer. Uh. Explore. Bello sì. Anche questo poco da dire. Ma sì. Sei zitto. Classico che si è visto molto in altri video. Bello assai. Ci piace. Passando a un orologio che mi è stato lasciato da mio nonno. Questo è un orologio di una brand che è attualmente inesistente. È. Avia. Avia. Avia era un. Se non erro. Un marchio di assemblatori. Ci assemblavano dei componenti di orologi. Anni. Penso dopo la guerra. Presumo. Anni 50-60. Ma forse anche prima. Lo trovo molto elegante. Un bel dress watch. Cioccolatone. Classico cioccolatone. Aviamatic. 25 gioielli nel movimento. Gioiello. E basta. Il quadrato come vedete leggermente rovinato. Qualche graffio però. Il vetro rovinato. Boh. Ovviamente come tutti i segni a tempo. Presentano i segni di usura. Dopo diversi anni. La cassa nottore. Passando a pezzi un po' più seri. Seri insomma. Ecco questo qua. È un Longin Silver Arrow. Bello questo. Toppino. I primi anni 60. E' acquistato da me recentemente. Da un'asta. Longin. Si. Un quadrante. Bello ingiallito. Bello vissuto. Anche questo. Carica manuale. Quindi un meccanico. E niente. Ci ho mandato questo bracciale. Questo. Scusate. Non bracciale. Questo cinturino. Un po' simpatico. Ma non è il giallito. È champagne. Corona originale. Longin. Eh si. Cappello di prete. Però. Passando sempre agli automatici e meccanici. Vai. Per farti vedere. Anche questo. Per me. Bellissimo. Zenith Stellina. Simpatico. Automatico. Calibro. 2542 PC. Anche questo presumo anni 60. Trovo molto interessante. Di questo orologio. Il posizionamento della data. Tra il quattro. Tra il quattro. Ma tutti erano così. Trovo. Che sia veramente. Una caratteristica di Zenith. Molto bella. Molto bella. Quella di posizionare la data. In questa appunto. In questa. In questa locazione. Che fa anche il primero. Il primero. Spesso la data. È posizionata. In questo punto. È stato rincassato. Ah si eh. Ma l'orologio è completamente originale. Cosa vuol dire? Boh. Rincassato originale. Cosa vuol dire? Boh. Boh 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 che si inizia a venire via si vede la casse nottone sotto cose la placatura fa questi giochi qua purtroppo però sono come merci è sempre un marchio validissimo è una carina maison storica storica e per concludere volevo vedere invece un pezzo che come potrà piacerti molto che questo girare per rego tutto d'oro tutto d'oro appunto piccoli con la numero di referenza la sigla carica manuale quindi meccanico questo non saprei dire un precisione di che anni sia ma lo adoro una follia non so praticamente tutto sia un tipico dress watch ma lo adoro niente spero che la mia collezione modesta vi sia piaciuta ma sì alla prossima un caro saluto ciao davide love 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 un caro saluto anche a te è una collezione improntata sui vintegini anche magari di un po un po diciamo economici no perché noi anche sto girare per rego e vai longines insomma i loro soldini le avrei spesi per averle no però c'è anche avvia quei marchi un pochino così scomparsi che altro non erano che i micro brand di oggi no solo che era differente oggi micro brand hanno la possibilità di rifornirsi da globalmente in tutto il mondo se vuoi fare una cassa in germania in asia in cina e hong kong in italia la fai te la fanno paghi di più paghi di meno a qualità un po di più un po di meno a seconda di quanto paghi quindi adesso c'è è globalizzato non micro brand una volta i micro brand erano per lo più svizzeri cioè nel senso che anche quelli italiani che come valere gioiellerie che c'erano non mi viene in mente il suo fiore grey e poi si facevano assemblare gli orologi della svizzera c'erano tutta questa serie di marchi di assemblatori che altro non erano che micro brand che costruivano orologi più o meno economici da immettere sul mercato per tutti noi oggi andiamo sulle bancarelle e li osanniamo a questa quella marca scomparsa ma sono altro che micro brand di adesso e come fra 30 40 50 anni andare a scoprire un micro brand che ora c'è e non ci sarà più non voglio augurare niente a nessuno però è da questo qua era quello che nel 23 era uscito poi sono morti sono finiti attenzione micro brand che potreste scomparire da un momento all'altro prossimo video buonasera davide sono retaro ormai ci conosciamo benissimo visto che il quarto video che ti invio a beh e te ne invio un ulteriore proprio perché di recente ho chiestato altri due segnatempo che ci tenevo tantissimo mostrare per te gli amici facceli vedere faccio una breve panoramica sugli orologi che già ti ho mostrato proprio perché per me sono come degli esseri viventi quindi non mostrarti sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti ti chiedo scusa un po viso per i riflessi ma è sera cercherò di fare il mio meglio ma si questo è il tisso viso date da 40 mm un orologio che aveva regalato mio papà per i suoi 70 anni non rientra tantissimo nei miei gusti anche se un orologio ben fatto ma si però rimane appunto in collezione proprio perché mi lega tantissimo al ricordo di mio papà poi ti mostro un guerrieri il guerriero che è il seiko mini alpinist da 38 mm bello inizia a portare anche qualche graffietta addosso proprio perché è compatta con me ogni giorno giorno per giorno sta con me quindi è chiaro che mostra i segni per le battaglie le battaglie è veramente però secondo me è uno dei pezzi più belli che ha proposto la seiko negli ultimi anni ma il prezzo con cui viene venduto anche perché guarda ora mi c'è caduto l'occhio è uno dei pochi seiko meno male che c'è solo il datario no siamo sempre abituati a vedere dei date spesso dei detti dei detti solo datario a un orologio economico con il datario basta fa fa la sua bella figura da tutti i soldi poi mostro l'emilton per forma per forza master da 39 mm la scelta al bianco che sicuramente un'ottima cosa per la leggibilità mi innamorai di questa configurazione placca da ora che è oggettivamente bella però ammetto che non riesco tanto ad abbinarlo al mio look quindi tendo ad indossare veramente poco ci vuole l'abbinamento mi piace preciso ci vuole l'abbinamento al look per indossare l'orologio ma smettetela no indossate gli orologi come vi pare cioè io cosa abbino cosa abbino se ho sempre i jeans cargo la la camicia quadri allora non mi posso mettere gli orologi eleganti ma io mi ci abbino quello che mi pare cioè ma abbinamento dell'orologio con la cravatta che rimane sicuramente a lungo nella mia collezione poi ecco qua il logine silver arro da 38 mm eccolo qua questo qua è il figlio è il figlio al brodigo cioè praticamente è successore del del silver arro che abbiamo visto prima quello vintage no silver arro è tornato ai giorni nostri e lo gin ce l'ha riproposto bello bello assai mi piace questo è un orologio che acquistai due anni fa in occasione del mio compleanno e lui ha dato inizio alla scimmia per per gli orologi è un orologio secondo me bellissimo e che c'è anche lui spesso mi piace mi piace tanto e e niente diciamo è il precursore della della mia scimmia per l'origeria precursore lui invece è il unico rival della collezione lo volevo sono andato proprio a colpo sicuro ad acquistarlo che il tutor black bay 58 ha del vero il ripenditore mi ha fatto provare anche il black bay da 54 se non sbaglio al diametro da 37 milioni però non lo so non mi piaceva al polso e poi mi ha fatto mi ha mostrato anche quello blu però volevo lui secondo me in questa configurazione è il massimo è un classico poi ti mostro quello che non si deve fare quando si beve ero a francoforti in occasione del mio ultimo compleanno sono passato da una gemelleria acquistato lui il tarboy al calibro 5 che bello con il dial nero che in realtà nero non è perché è più un grigio scuro è bello che dire un orologio veramente fatto bene nonostante non monta un calibro nonostante sb200 però a guardare le rifiniture della cassa del bracciare la leggerezza sembra un orologio di più alto spessore anche lui è un bello orologio che di cui vado fiero certo e poi proprio la realizzazione di un sogno la posizione di un sogno che può voluto acqua terra da 38 mm balla su lui è veramente un'opera d'arte la sera me lo guardo mi guarda il suo calibro spettacolare e che dire lo volevo lo volevo tantissimo ho fatto di tutto per per acquistarlo complimento se non sbaglio l'ultima versione questo è con il dial con le righe orizzontali perché adesso fanno quello senza liscio tra virgolette però anche loro sono belli ma lui è più bello come puoi vedere nella mia collezione manca un crono sono abbastanza sicuro di cosa acquistare che anche se te non piace molto che il taggoia il monaco da 39 mm bravo bravo visto nella serie breaking bad me ne sono innamorato e spero di mandarti a breve un video con lui al mio volso e niente la mia collezione finisce qui spero ti sia piaciuto il video e come sempre complimenti per il canale alla prossima grazie mille ciao 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 e niente io il monaco lo sapete non fa per me non riesco non riesco a sicuramente scegli un cronografo iconico no rappresentativo del marchio e non solo del marchio ma anche della storia dell'orologeria e ci mancherebbe altro poi gli orologi gli ultimi gli ultimi pezzi che c'è carrera il black baby di tudor l'omega acquaterra c'è già su un bel livello di quelli da poter essere soddisfatto dei tuoi orologi no ti riguardi la sera io mi sdraio sul divano al buio nudo e mi ricopro di orologi ognuno c'è le sue c'è le sue fisse no io c'ho questa fissa qua e metto lì così tutti gli orologi sopra e ognuno c'è la sua no comunque complimenti e poi anche gli orologi di prima Hamilton Tissot tutti orologi con un senso che sono belli orologi viso date magari quando guardavo il viso date dicevo sì è sempre stato un bel modello il viso date e anche lì c'è il day date che dà un bel pugno all'occhio sul quadrante 40 mm e mi veniva in mente invece le ultime uscite di Tissot come il Chemin d'Eturel che è tutta un'altra roba per essere l'eleganza proprio in sé capito proprio veramente oppure l'heritage 1938 cioè le ultime uscite di Tissot sono molto più interessanti dei classici viso date ballade quello che si vuole no comunque complimenti per la collezione aspetto con ansia che non è una ragazza è proprio l'ansia che mi mandi il video del monaco dai mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e spero vi siano piaciuti i video il video il presentatore l'orologio del giorno e l'orologio degli altri e nonché il tempo che c'è fuori vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!